Anatta in 2010, villa di Epstein. Il principe Andrea, secondo figlio della regina Elisabetta, che viene fotografato nella villa mentre saluta una ragazza che esce dalla porta. Il principe che definisce il tutto un accanimento ripugnante nei suoi confronti. Va in scena così l'ennesima puntata della tragica sop sulla vita di Epstein e dei suoi amici famosi e potenti. Jeffrey Epstein, il finanziere ricco e potente, con il vizietto delle adolescenti da portarsi a letto e da offrire ai suoi amici facoltosi e famosi. Jeffrey Epstein, trovato impiccato con il lenzuolo della sua brandina in carcere, avrebbe dovuto rispondere delle accuse di abusi e sfruttamento sessuale. Un suicidio che, secondo alcuni, sarebbe stato un omicidio. Ma poi, a fugare ogni dubbio, è arrivata la conferma ufficiale di suicidio dai risultati dell'autopsia. Fine del complotto, ma non fine del caso. Le indagini continuano. Intanto, Buckingham Palace, a difesa del principe Andrea, fa uscino un comunicato in cui dice di essere inorridito dalle recenti notizie sui presunti crimini di Jeffrey Epstein. Su Altezza Reale deplora lo sfruttamento di ogni essere umano e l'insinuazione che abbia partecipato incoraggiato a comportamenti simili è ripugnante. Ma la storia continua. Ci sono minorenni violentate, ragazze che entrano ed escono dalla casa di Epstein a New York. Video più o meno segreti in circolazione, personaggi in vista che stanno per essere tirati in ballo. Un gioco sporco di abusi sessuali su ragazze minorenni. Jeffrey Epstein, il molestatore sessuale e il pedofilo, come la stampa britannica, lo definisce quello che rischiava 45 anni di carcere e che, invece di affrontare le proprie responsabilità, è scappato attraverso la morte.